I carabinieri di Venaria Reale, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Artificeri Antisabotaggio di Torino, a seguito di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno denunciato sei persone, responsabili a vario titolo per detenzione abusiva di materiale esplodente e ricettazione, e sequestrati 133 kg di giochi pirotecnici. L'operazione è nata dal monitoraggio dei mercati rionali, dove in prossimità delle festività natalizie alcuni commercianti vendono anche fuochi d'artificio. I carabinieri hanno individuato una famiglia di Venaria, padre, figlia e genero, di origine napoletana, che vende frutta e verdura al mercato, ma che in questo periodo dell'anno è sospettata di vendere anche artifici pirotecnici. Il sospetto è diventato certezza quando un sessantenne con precedenti penali e un complice sono andati al mercato rionale torinese di Corso Nizza e hanno consegnato a un ambulante, un trentasettenne con precedenti penali, 48 kg di giochi pirotecnici. I carabinieri sono intervenuti per bloccare i venditori e gli acquirenti e nel bagagliaio dei primi hanno trovato 77 kg di fuochi d'artificio. Contemporaneamente altri due familiari, figli e genero, a bordo di un furgone sono stati fermati mentre vendevano 48 kg a una casalinga di Venaria. È stato accertato che la vendita era priva di qualsiasi autorizzazione di polizia e il materiale esplodente era detenuto senza minimo requisito di sicurezza. Due clienti sono stati denunciati alla procura di Torino per ricettazione, mentre i quattro venditori dovranno rispondere di detenzione e vendita abusiva di materiale esplodente.